buona giornata amici vi auguro una buonissima giornata oggi è martedì 8 marzo 2022 una giornata particolare perché oggi 8 marzo è la festa delle donne la giornata internazionale dedicata alle donne vedremo poi come i giornali riportano questa notizia e riportano soprattutto le iniziative che vengono organizzate nel corso della giornata ebbene per trovare intanto il santo del giorno andiamo in portogallo in portogallo troviamo san giovanni di dio era appunto un portoghese nacque nel 1495 l'america era stata scoperta da pochissimi anni ma in realtà ancora non si sapeva che fosse un nuovo continente si pensava che fossero le indie da giovane giovanni viaggiò moltissimo e si arruvalò anche nelle milizie del conte di europesa in castiglia combatté contro i turchi si fece dimostrò il suo valore poi congedato si mise al servizio di una ricca signora come pastore da allora però la sua vita cambiò si mise al servizio dei più deboli fondò il primo ospedale di granada e la comunità dei fate bene fratelli ancora attiva oggi da allora condusse una vita santa e non esente da eventi miracolosi e questo è san giovanni di dio il sole questa mattina sorge alle 6 e 33 e sorto alle 6 e 33 e tramonterà alle 18 06 diamo un'occhiata anche le previsioni del tempo vediamo che il tempo rimane instabile su tutte le marche c'è un'alternanza tra nuvole e cielo sereno ma più nuvole che cielo sereno una mattina instabile pioggia e neve da 100-200 metri sull'appennino e sui settori medio bassi della regione nubi irregolari al pomeriggio i venti ispireranno sulle coste da una direzione di nord e nord est e sull'interno ugualmente dalla stessa direzione le temperature sono in calo e si aggireranno dai 4 gradi per quanto riguarda le minime ai 7 per quanto riguarda le massime insomma ancora fa particolarmente freddo apriamo il giornale sulla pagina di fano e il corriere adriatico e vediamo subito le difficoltà che hanno coinvolto il mondo della pesca per quanto riguarda l'aumento del carovita soprattutto l'aumento del del gasolio che è una fonte una fonte indispensabile per quanto riguarda il lavoro della pesca ora i marinai restano a bordo ma poi sarà a cassa integrazione gli armatori dichiarano ormai che la pesca è azzerata si tratta della pesca d'altura per i costi insostenibili del gasolio tutta la filiera è in crisi e sappiamo come la pesca è in sciopero i pescatori sono in sciopero sabato prossimo termina questa terminerà questa manifestazione e a quel punto si valuteranno ulteriori decisioni così ha dichiarato paolo palazzi armatore fanese che nei giorni scorsi ha detto di ritenere il rincaro sull'energia elettrica il gas e carburanti le materie prime è un attacco contro la piccola impresa insomma la pesca è uno dei settori più importanti della nostra economia anche se si è ridotta moltissimo negli ultimi tempi e questo appare come il colpo di grazia tutta la filiera in sofferenza ha detto angelo nardini che è colui che dirige il mercato ittico all'ingrosso di fano in questa fase il mercato ittico lavora con prodotto di allevamento e di importazione ma mi risulta che abbiano forti difficoltà anche i negozi ha detto chi ha un banco frigo c'è la frigorifera e anche cucine se si tratta di una gastronomia marinara deve fare i conti con i forti aumenti dell'energia elettrica quindi anche la filiera della conservazione soffre per appunto l'elevato costo della luce della dell'energia elettrica giriamo la pagina sul Corriere Adriatico e vediamo come si parla di un'iniziativa interessante per quanto riguarda le mense scolastiche. Nelle mense scolastiche fanesi è in arrivo il cibo buono e amico del pianeta anche fano infatti aderisce alla Green Food Week una settimana verde che è iniziata ieri e terminerà l'11 marzo in Italia coinvolti oltre 100.000 bambini sono tantissimi comuni che hanno aderito a questa iniziativa tra cui Fano sono 18 i comuni in provincia c'è anche Pesaro un menu sempre più green in più a basso impatto ambientale per quanto riguarda gli sprechi e l'uso delle risorse idriche e quanto ha introdotto il comune di Fano nelle mense scolastiche tanto da costituire un esempio per altri comuni e ieri questa iniziativa è stata presentata dal sindaco Massimo Seri e dall'assessore ai servizi educativi Samuele Mascarini. Giovedì sarà un po' il giorno clou di questa settimana sarà servito nelle mense scolastiche un menu uguale a tutti insomma è un menu che fa che fa uso di cibi particolarmente sani vediamo che cosa si mangerà si mangerà la pasta al pesto di verdura bianca poi polpette di lenticchie rosse in umido crudi tè di carote e cavolo cappuccio viola dopo per quanto riguarda il gusto la qualità è ottima ovviamente per quanto riguarda il gusto ogni bambino poi si comporterà da se stesso però insomma c'è anche una certa soffazione da parte dei più piccoli di mangiare questi cibi sani e questo è importante perché quest'opera di educazione a una sana alimentazione sta avendo successo e parliamo anche dell'8 marzo sono tante iniziative che si svolgono in tutte le località per celebrare un po' l'obiettivo e il fine di questa istituzione che è quella della pari opportunità e soprattutto di combattere la violenza sulle donne abbiamo visto come ancora la violenza sia diffusa nel territorio lo vediamo nella lettura dei giornali ogni giorno dunque vediamo le iniziative che si svolgono a Fano oggi 8 marzo alle ore 19 nella sala ipogea della memo si terrà il convegno con l'ago con il filo artigiane artiste della moda nell'italia del novecento si parlerà delle donne artigiane delle donne che hanno lavorato in proprio acquisendo una propria una propria autonomia una propria autonomia di carattere anche economico non solo culturale e poi vediamo che si proseguirà dalle ore ancora più tardi si proseguirà al pari centro con l'inaugurazione di costellazioni reciproche opere murarie e della mostra della famiglia fanese orciani una mostra di pannelli dipinti di murales che sono ovviamente significativi per quanto riguarda la festa delle donne e poi si viene evidenziata anche un'altra iniziativa quella che si svolgerà il 23 marzo prossimo alle ore 18 nella sala verdi del teatro della fortuna ci sarà un convegno delle donne di tutti i paesi del mondo residenti a Fano e anche e quindi anche delle nuove immigrate giunte dalla ucraina e si parlerà soprattutto di questo problema ansiosi tristi e arrabbiati ma anche capace di sperare chi sono sono i giovani giovani che sono stati monitorati dall'ufficio della caritas sono giovani tra i 14 e i 35 anni che hanno risposto a questo sondaggio un sondaggio che ha compiuto un grosso lavoro compiuto anche con la collaborazione della università di urbino sono state poste 40 domande ad ampio spettro formulate interagendo con nico bazzoli e anna maurizzi ricercatori appunto della università e che cosa è emerso in questo sondaggio è emerso sono emersi elementi preziosi sulla condizione giovanile tra appunto i 14 e 35 anni si tratta di 514 giovani che hanno fornito molti molti dettagli per esempio il tema del lavoro è quello che è risaltato più drammaticamente sentito da parte dei giovani e il 45 per cento dei quali si è dichiarato precario e quasi la metà degli interpellati ha esibito una situazione socio economica peggiorata rispetto a quella che si godeva negli anni passati l'87 per cento ha lamentato l'assenza di spazi di aggregazione l'83 vedrebbe con favore l'apertura di uno spazio di ascolto nella città e poi si è parlato degli effetti deleteri della pandemia con il 56 per cento della platea che soffre di ricadute sul piano psicologico mentre un buon 36 per cento ha segnalato ricadute anche sul piano fisico da parte del covid insomma una situazione a largo rangio che ora che ora sarà oggetto di azioni concrete da parte della caritas nei confronti dei giovani ma spero anche da altre istituzioni la potatura è un tram ma l'aset lo ignora carti servizi censimento e regolamento del verde i dubbi del movimento 5 stelle in merito a questo settore e passiamo ora alla valmetauro ma ci fremiamo a cartoceto dove sono stati individuati gli autori di atti di vandalismo ai danni di tre autobus dell'ami scuolabus devastati con martello e cric pensate gli autori sono tre bambini tra i dieci e i dodici anni sono stati ripresi dalle telecamere del parcheggio uno sconcerto generale nel scoprire questi giovani autori questi giovanissimi autori il sindaco comunque ha detto non finirà così perché non è una ragazzata non è una bravata è un vero e proprio atto delinquenziale e in questo caso questi bambini vanno rieducati tre autobus resi inutilizzabili vetri rotti i divelti con cric e martelletti alcune carrozzerie pesantemente abbozzati e quindi danni considerevoli un rider in gravi condizioni per una caduta a terra è stato soccorso nel parco delle cesane nel bike park delle cesane l'incidente si è verificato domenica mattina intorno alle 12 e 30 e si è reso necessario l'intervento del soccorso alpino e speleologico delle marche con l'aiuto di un elicottero per stabilizzare e trasferire all'ospedale di ancona questa persona le condizioni comunque migliorano per cui non ci sono pericoli di vita febbre alta dopo la festa di carnevale l'influenza colpisce anche a mondolfo si pensa che non sia il covid ma la classica influenza con sintomi comunque considerevoli un ragazzino di 16 anni tra i partecipanti dice sono stato malissimo contagiata anche la sorellina un ragazzino un ragazzino che ha accusato malessere due giorni dopo la festa e anche la sorellina di 14 anni sono febbre vomito insomma stanchezza rilassatezza si tratta di una famiglia che è originaria dell'africa settentrionale il papà iusef kalfa operaio di una ditta del posto e volontario della protezione civile ha espresso preoccupazione per ciò che sta accadendo perché la cosa non si è limitata sul nucleo familiare ma sta un po dilagando un po sa tutti la popolazione e c'è ancora neve sul catria questo dimostra come ancora la temperatura è piuttosto rigida sì siamo a marzo a pochi giorni dall'inizio della primavera ma ancora questa coda di inverno infierisce sull'assetto sull'assetto atmosferico del nostro territorio e passiamo ora alla pagina di pesaro dove si parla di viabilità attenzione arrivano i varchi 2.0 una app darà il via libera al passaggio nella ztl c'è un intervento dell'assessore belloni il comune ha ottenuto dal ministero l'autorizzazione le telecamere avranno una lettura ottico a più funzionale tramite lo smartphone ebbene a fano a fano a pesaro sono stati istituiti otto varchi controllati elettronicamente in entrata sono quelli di via rossini via dell'arsenale via spada via passeri via barese via castelfidardo via via gargattoli e via catanio sono tre invece i varchi in uscita controllati elettronicamente sono quelli di via san francesco via natan e via cairoli porta capucina chiuderà non c'è speranza ormai che rimanga come parcheggio non c'è pace con il comune i new jersey sono già in deposito ma resta l'incognita sulla data quando chiuderà ma chiuderà ormai la decisione è assodata se ne è parlato anche nei giorni scorsi nei giornali la berloni questa ditta significativa del nostro territorio ancora all'asta ebbene è il socio di taiwan che se l'è ricomprata si tratta il del ceo di termos alex wang il quale aveva già manifestato l'intenzione di ricomprarsi la ditta novembre con quel che resta della storica azienda di cucine si è rilevato anche il marchio ebbene l'imprenditore ceo della multinazionale termos company con base a schamburg negli stati uniti nell'illinois è ritenuto il più grande produttore di termos e contenitori isolanti del mondo era già socio della berloni nell'accordata targata taiwan che tentò il rilancio nel 2014 l'acquisizione questa volta è stata fortemente voluta da wang dopo i tentativi passati di aumento di capitale e di acquisto di quote degli altri soci quindi c'è una rinascita per quanto riguarda la berloni giriamo ancora le pagine sulle corriere adriatico e troviamo e troviamo gli aiuti che si stanno organizzando per i profughi della ucraina telefono e me e mail una richiesta continua quasi 400 contatti per la catena di aiuti è l'assessore pandolfi sulla rete del comune per i profughi che interviene al mercato si bissa la raccolta di vestiario dunque si lancia una sos ucraina e la voglia dei pesaresi di aiutare i profughi ucraini passa anche attraverso il telefono e la posta elettronica e quanto viene messo in risalto dalla ricognizione dei primi cinque giorni di sos ucraina la linea diretta attivata dal comune in collaborazione con la protezione civile pesarese il numero è quello 07 21 387 616 07 21 387 616 risponde dalle 9 alle 11 dalle 17 per inviare un e mail invece occorre rivolgersi all'indirizzo protezione punto 2 chiocciola comune punto pesaro punto più punto it sono in campo anche le farmacie comunali di pesaro e gabice insomma una rete di sos per aiutare le popolazioni che passeranno si insedieranno nel nostro territorio e poi parliamo ancora dell'otto marzo revenge porn il nemico in casa e la vendetta per un legame finito nell'ambito delle iniziative sulle donne spazio anche a un consiglio comunale monotematico interviene in questo articolo camilla mugia assessore pesarese alle pari opportunità che illustra il programma dell'otto marzo nell'aula magna dei liceo mamiani alle 10 e 30 ci sarà un dibattito sui monoteismi e la questione femminile che coinvolgerà miriam camerini regista teatrale attrice cantante e altre personalità percorso donna rivolge un pensiero alla guerra e alle donne che stanno subendo proponendo un incontro sul binario 8 alla stazione gauss dalle 18 in poi per sostenere l'associazione nei progetti in corso a contrasto alla violenza delle donne e poi alle 19 all'ars hotel alexander museum l'appuntamento è con l'arte l'universo femminile a cura di luciano dolcini con anna maria benedetti pieretti del fai di pesaro rita mattioli del soroptimist di fano renzo tebaldi un artista e luciano dolcini fotografo infine alle 21 nella sede della compagnia di vie dell'acquedotto la piccola ribalta propone lo spettacolo sette minuti di stefano massini per la regia di francesco corliano e queste le iniziative appunto dell'otto marzo e veniamo ora alla pagina di pesaro del resto del carlino vediamo come le iniziative per i profughi della ucraina si moltiplicano in questo caso abbiamo la testimonianza diretta di una donna appunto che ha portato le sue figlie nel nostro territorio le mie figlie in fuga dal pericolo di stupro dall'ucraina pesaro per rifarsi una vita si tratta di larissa che fa il mestiere di donna delle polizie ha fatto arrivare a pesaro le sue figlie una di 17 una di quattro anni troppo alto il rischio che i russi le facciano facciano loro del male ha dichiarato vivono come nucleo familiare in una stanza piccolissima di 30 metri quadrati dice non chiedo soldi ma un appartamento un pochino più grande insomma sarebbe ben accetto carolina vorrebbe frequentare medicina il mio sogno ha dichiarato la ragazza è diventare dentista ma dovrò farlo qui non tornerò più nel mio paese e cerco aiuto quindi un'invocazione per un intervento solidale nei confronti non solo di questa famiglia ovviamente ma anche di tutti coloro che giungono da quella terra tormentata anziani maltrattati una badante sotto processo diciamo subito che si tratta di una sessantenne cubana che è accusata di non essersi presa cura di un novantenne a lei affidato e di aver minacciato la moglie di lui che se ne lamentava addirittura ha tentato di scagliarle una seggiola addosso la donna la moglie di questo uomo che la cubana assisteva ha tentato un po di rimproverarla quest'area agito è veramente in maniera molto autoritaria molto provocatoria i fatti risalgono al 2018 la donna ora è sotto processo l'imputata avrebbe afferrato una sedia per intimare la donna di tacere sulle sue mancanze insomma anche intimidazione protezione civile da 16 a 80 anni con la casacca gialla il consiglio comunale voterà il nuovo regolamento che allarga la possibilità di diventare volontario e sono veramente tanti i giovani ma anche i meno giovani che prestano la loro attività a servizio della comunità che doppietta al moto mondiale trionfano i figli di valentino rossi sono i componenti del muni vr 46 racing team che valentino rossi ha presentato nei giorni scorsi al suo arrivo a rossini dove ha organizzato un evento proprio ad hoc e tutto particolare i pesaresi dominano nel gran premio del catar della moto 2 celestino vietti ramus pilota del muni vr 46 vince la gara d'esordio ed anche nella moto 3 andrea migno del ranch sale più in alto di tutti quindi nel primo posto della graduatoria e poi vediamo ancora sulla pagina di fano annoiati demotivati e precari ecco i nostri giovani allo specchio e il sondaggio di cui abbiamo già parlato compiuto dalla caritas una indagine su centinaia di ragazzi del territorio tra i 14 e i 35 anni e il 56 per cento ritiene che la sua salute psichica sia peggiorata dopo il covid così come quella fisica pari al 36 per cento e il 61 ammette di non fidarsi del prossimo quindi c'è anche una sorta di ritrosia nei confronti dell'altro la testimonianza di giulia ho 25 anni e amo il mio paese ma non riesco a vedere qui un futuro quindi non ci sono molti stimoli una bella notizia a fondo pagina magari meriterebbe avrebbe meritato un po più di evidenza ebbene viene installato il cantiere per i lavori al sant'arcangelo 4 milioni di investimento per trasfigurare questo immobile che ospitava un tempo un collegio ora ospita anche una scuola media però nel futuro ospiterà due istituzioni importanti la casa della musica e la casa del carnevale una trasfigurazione una diciamo così una un cambiamento di classe perché c'è un architetto noto come rota che ha eseguito ha redatto il processo il progetto abbiate pazienza sto andando in barca il progetto e quindi si iniziano i lavori e i lavori vedranno già un compimento nel novembre del 2022 quando dovrebbe essere realizzata la casa della musica e il bar ristorante invece nell'ottobre del 2023 ci sarà la casa del carnevale quindi date confermate disco verde per la cabina Enel a Lido in stallo la vasca anti allagamenti ci vorranno però altri sei mesi per l'allaccio e l'entrata in funzione dell'impianto terminato due anni fa ovvero quello dell'impianto di sollevamento delle acque di piazzale a Mendola e qui vediamo un po il teatro di questa operazione in questo luogo dovrebbe essere realizzata la cabina elettrica che poi dà energia all'impianto di sollevamento delle acque e qui siamo nei pressi della cave appunto del Lido e qua vediamo la l'albergo che è nei pressi legumi e verdure le mense scolastiche in salsa ecologica si parla appunto dell'educazione in tavola e della settimana dei cibi green e poi alla memo le artigiane della moda al pari centro le opere di orciari le iniziative fanesi per quanto riguarda l'8 marzo marotta camera con vista sulla bidonville parcheggio trasformato in deposito di cassonetti la minoranza accusa scenario indecoroso e che dire della mancata pulizia dei fossi e sono delle riserve appunto che fa la minoranza comunale ad urbino abbiamo l'evidenza di un giovane intraprendente si tratta di edoardo michelori 37enne urbinate che cosa ha fatto questo imprenditore ebbene è il responsabile dell'audio della la cupola dell'immensa fiera di dubai dell'expo di dubai è stata un'impresa stressante ma sta andando tutto bene ed è l'esempio della tecnologia e della professionalità marchigiana del nostro territorio e questo per il momento è tutto massimo foghetti vi saluta vi dà appuntamento per le altre notizie di domani alle ore 7 per questa sera vi invito a seguire il tg occhio alla notizia delle ore 20 e 30 e questo è veramente tutto a risentirci